buongiorno a tutti da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con racing time il tg dei motori allora innanzitutto vi voglio ringraziare per i tantissimi auguri che ho ricevuto nella giornata di ieri grazie di cuore ragazzi veramente mi ha fatto un piacere incredibile grazie 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 l'avete fatti qui sul canale su facebook ovunque è stato veramente molto piacevole sentirsi circondato da tutto questo affetto poi vi voglio suggerire di andare a guardare l'unico video che ho fatto ieri il tg giorno dove parliamo di come la ferrari si appresta a gareggiare a monza con quale fiducia ci arriva e poi ci sono tutta una serie di altri argomenti il video di ieri è piuttosto lungo poi causa festeggiamenti fatti in piazza con gli amici ci sono i tornei di pallavolo ci stiamo a divertire un attimino e non è stato possibile fare il tg not era troppo tardi non vi dico per decenza a che ora ho finito e a che ora sono rincasato comunque adesso lanciamo la sigla e poi partiamo con una puntata dove c'è un qualcosa che si sapeva già ne abbiamo già parlato in tutte le lingue del mondo su questo canale però un conto è che ne parliamo noi un conto è che ne parlino i diritti diretti interessati questa cosa qui proprio non va sigla e partiamo con la puntata bene eccoci qua allora prima di entrare nel clou dell'argomento che vi ho annunciato in apertura volevo farvi vedere un lavoro che mi ha inviato un ragazzino un pilotino si chiama insorificio ma è qui sul canale è famoso guardate che grafica ha prontato per monza siamo nel race week io ci tenevo a farlo vedere anche perché stiamo parlando di un ragazzino di 12 anni abbiamo due fenomeni praticamente uno di 14 che il nostro mattia russo e che qualcosa di incredibile poi abbiamo anche enzo che si diletta si appassiona questi lavori grafici grazie però è questo questa sua foto introduce una cosa ovvero il colore delle tute che è la ferrari ha presentato proprio oggi guardate qui da questo lato c'è il video dove appunto i due piloti ferrari fanno finta di scoprire quello che è l'orabbigliamento per il gran premio di monza devo dire che hanno un fascino molto particolare queste tute carbon look allora poi è scoppiato un po come dire una sorta di anche panico collettivo no perché tutti a chiedersi ma ragazzi ma allora la vettura sarà tutta nera sarà carbon look come come sarà questa vettura per monza allora facciamo così facciamo un giochino io lo so e ve lo dico magari questa sera nel tg notte però vediamo come ve l'aspettate voi scrivetelo qui sotto nei commenti allora partiamo con il clou di questa puntata il clou di questa puntata è una cosa non proprio carina a livello etico e sportivo per quale motivo ve lo spiego subito allora avete sentito ieri la dichiarazione di christian horner fatta a motorsport international vedete qui sta proprio scritto tutto in inglese dove appunto in questa parte qui ho voluto riportare proprio il testo anche perché l'inglese lo parliamo un po tutti tranne io ho voluto riportare il testo di motorsport in inglese direttamente senza traduzioni dove appunto lui dice che domenicali a inizio stagione proprio l'ha dichiarato apertamente quando loro guidavano le gare con 20 25 secondi di vantaggio ebbene nelle prime cinque gare gli ha chiesto di rallentare per favorire un pochino di più lo spettacolo questa è una dichiarazione fortissima è una dichiarazione per carità tutti oramai su questo canale abbiamo capito l'andamento un po del mondiale e dei mondiali di formula 1 il 2021 un anno che poteva essere epico stupendo e sportivamente puro abbiamo visto poi come è stato come è finito non voglio aggiungere altro in merito a quella stagione che già non è stato detto però dire che il CEO della formula 1 cioè una delle persone che ha più potere e più voce in capitolo in formula 1 va da lui gli bussa alla porta gli dice per cortesia rallentate perché se no la gente capisce che siete anni luce avanti e non si diverte più è veramente una cosa grave cioè già è grave il fatto di per sé ma è ancora più grave il discorso che venga detto così ai 420 perché va a screditare ancora di più ai nostri occhi uno spettacolo che praticamente ci appare finto estremamente finto non che non ne avessimo il sospetto però uscirse ne con una dichiarazione così io credo cioè ci toglie quel minimo di poesia che è di romanticismo che ancora rimane nell'osservare le gare perché d'accordo ci sta tutto che un pilota amministri il proprio grande enorme vantaggio fa un po alla lauda o alla pros di ok ho 20 secondi è inutile tirare ma è una scelta del pilota e il pilota che decide di rallentare ma quando il CEO della formula 1 ti chiede una cosa del genere anche in questo caso ragazzi lascio a voi le conclusioni sono proprio curioso di vedere che cosa mi scriverete qui e questo è quanto ora visto che abbiamo parlato di 20 25 secondi che è un po il margine che ha avuto norris al gran premio d'olanda zambord vi preannuncio un argomento del tg notte quindi del tg che uscirà intorno credo alle 23 23 e 30 24 non lo so ancora però comunque uscirà questa volta ve lo prometto è non mi asterrò da questa cosa allora avete visto la partenza di norris di solito lui non parte bene però questa volta ci ha insospettito un pochino anche la partenza di piastri due mclaren che partono in maniera uguale probabilmente hanno avuto lo stesso problema grazie al lavoro di marco iurlandino dell'ingegner marco iurlandino io già ho visto le telemetrie che mi ha inviato abbiamo evidenziato qual è il problema della mclaren e qual è stato il problema del solo norris diciamo che norris ha avuto due problemi in generale i due piloti mclaren solamente uno nel video di questa notte o nel video di questa sera vediamo un po quando riusciamo a farlo uscire vi spiegheremo per benino con tanto di grafico commentato quello che è successo però sono contento perché l'intuizione che abbiamo avuto immediatamente vedendo le due partenze pare essere corretta pare essere corretta andiamo avanti vi faccio vedere mi viene da ridere scusatemi ragazzi i trofei per monza per la terza volta in questo video vi chiamo in causa io non dico niente ragazzi io non dico assolutamente nulla ditemi voi che cosa ne pensate poi a proposito mi è venuta in mente una cosa non vi ho più dato risposta di quell'analisi di guida senna prost lo faremo questa sera non lo facciamo adesso perché sennò questo video viene molto molto lungo andiamo avanti con le notizie perché a imola l'alpine sta girando oggi e domani con due piloti uno è jack duan lo vedete qui l'altro invece è mai in impegnato in formula 2 ora perché di questo test ragazzi tranquilli avverrà con le vetture vecchie di due anni ma viene fatto per andare a far fare sempre più chilometri a jack duan e nel contempo far girare anche i piloti che verranno dopo di lui nel tentativo di far arrivare duan figlio del campione nel mondo di motociclismo ve lo ricordate nel tentativo di farlo arrivare il più preparato possibile alla prima gara del 2025 andiamo ancora avanti e parliamo di altri piloti perché è in ballo questa sostituzione di logan sergiana per il gran premio di monza o per meglio dire da monza a fine stagione i piloti in ballo abbiamo detto sono due però guardate qui questo fine settimana c'è il WEC ad Austin ok e tra gli iscritti alla gara ma non mi stupirei più di tanto di questo risulta anche Mick Schumacher ora è ovvio che l'alpine lo abbia iscritto è ovvio anche che c'è un pilota di riserva però in ogni caso questo significa che fino a questo momento ancora una decisione in merito non è stata presa o perlomeno non è stata presa in una decisione che riguarda Mick Schumacher perché magari Lawson è già allertato e quindi possibilmente correrà lui su questa dicenda non c'è nulla di certo ancora e a quanto ne so onestamente anche nulla di deciso però potremmo appunto vedere un nuovo pilota al volante della seconda Williams poi tra un po' vi dico una cosa che sono sicuro piacerà alla maggior parte di voi e speriamo che da oggi in poi abbiamo sistemato un po' tutte le cose però prima vi dico questa guardate un pochino questa è la classifica ragazzi della formula 3 che come potete vedere tiriamo fuori la manina all'ultima tappa questo fine settimana proprio a Monza quindi si deciderà chi sarà il vincitore e ai primi due posti non succedeva da una vita dagli anni 90 abbiamo due piloti italiani Fornaroli a 129 e Minia 128 e poi c'è anche onestamente Brawling che se la gioca molto da vicino Librand ragazzi sì c'è anche lui perché non è distantissimo però ce l'era un po' più difficile poi teoricamente sono in lizza anche Beganovic Mansell e Goethe però realisticamente secondo me saranno i primi quattro e ancor più i primi tre a giocarsi questo titolo quarta volta che vi tiro in causa secondo voi chi vincerà boom allora ieri abbiamo detto ho fatto il compleanno oggi chi fa il compleanno allora per quel che riguarda l'angolo della storia come sempre curato e ideato dal nostro donato di f1 history che trovate su instagram oggi il compleanno lo fa 65 anni Gerard Berger uno dei miei idoli d'infanzia e scusatemi se ho preso una foto un po' sgranata ma mi andava di metterci anche Senna suo amico o forse uno dei suoi migliori amici e mi andava di mettere anche lui in questa foto quindi tanti auguri Gerard Berger io ho avuto il piacere l'ho raccontato diverse volte su questo canale di stringere la mano direttamente a Berger no a Gerard e la cosa che mi ha fatto veramente impressione sapete cos'è stata che mi ha dato un pezzo di ferro cioè come se avessi stretto un pezzo di ferro allora la mano destra era quella chiamata a fare migliaia di cambiate a ogni gran premio ragazzi avevano dei calli mostruosi quando mi ha dato la mano ho detto ma cos'è comunque questo è quanto perché io gli avevo scritto una lettera da bambino poi l'ho visto e glielo ho raccontato e pensate lui mi rispose allora che emozione che bello e non mi rispose con la solita cartolina c'era qualcosa di scritto direttamente inerente a quello che gli avevo scritto io veramente una gran bella emozione soprattutto per un bambino bene chiudiamo questa puntata con una piccola novità che sono sicuro vi farà piacere allora credo di aver aggiustato le cose e quindi da oggi il tg notte ragazzi torna su questo canale torna su questo canale si farà in questo modo quando riusciamo a uscire col tg giorno a un orario decente allora il tg notte si farà e si farà su questo canale quando usciamo con un tg molto vasto alle 6 del pomeriggio il tg notte penso che non verrà fatto in sostituzione vi metteremo un contenuto diverso il nostro secondo canale ritornerà ad avere una funzione più adatta a come dire chi si vuole appassionare ci troverete altri contenuti quali le interviste e altre robe così oppure qualcosa di esclusivo inerente le tecniche di guida se vi volete appassionare e specializzare e dei consigli per chi vuol fare il pilota spero di aver sistemato le cose allora diciamo che l'ennesimo esperimento che facciamo ho studiato un pochino alcune cose per farvi avere come dire la situazione sotto controllo dei vari video che escono poi vedrete di che cosa sto parlando però il tg notte oggi e spero da oggi in maniera definitiva lo condurremo qui sul nostro canale principale io vi lascio vi mando un bacio vi invito a iscrivervi al canale questo è il nostro secondo canale selezione tv2 a lasciare quattro commenti un solo like perché di più non se ne possono mettere noi ci vediamo più tardi ciao ragazzi e grazie